Un nuovo episodio di violenza segna in negativo l'estate viestana. Ieri sera in corso Fazzini, in pieno centro, è scoppiata una rissa tra giovanissimi, come evidenziano le sequenze filmate da un passante. Sono volati calci e pugni tra le urla di chi chiedeva insistentemente di smetterla. Utilizzati anche tavoli e sedie per colpire con violenza uno dei tanti giovani coinvolti nella lite. Quello di ieri sera rappresenta l'ultimo episodio di violenza registrato nel comune garganico. Nei primi giorni di agosto, infatti, un ragazzino è stato vittima di bullismo da parte del branco che lo ha spintonato e schiaffeggiato. Anche in quella circostanza l'accaduto fu ripreso dagli smartphone. Ancor prima, a giugno, due minorenni erano stati accerchiati e malmenati da un gruppo di adolescenti, mentre in una rissa scoppiata a maggio tra ragazzini erano stati due i carabinieri ad avere la peggio e per due giovani era scattato il Daspo Willy. Intanto sull'episodio di ieri in Corso Fazzini è intervenuto anche il primo cittadino di Vieste, Giuseppe Nobiletti. Questi atti violenti non sono soltanto inaccettabili, ma minacciano anche la tranquillità a Vieste. È fondamentale che la comunità si unisca per condannare tali comportamenti. Chiediamo con urgenza il potenziamento delle misure di sicurezza da parte delle forze dell'ordine, ha concluso Nobiletti.